Sì, novità perché ormai da qualche giorno che abbiamo intavolato con alcuni tecnici e con chi partecipa proprio al mercato dell'antiquariato, con gli operatori, abbiamo fatto dei tavoli proprio per capire come migliorare questo mercato dell'antiquariato. Partiremo proprio da questo weekend intanto nel riportarlo al Pincio, su area naturale, è un luogo molto affine per un prodotto come l'antiquariato, in questo bellissimo Pincio rinnovato. Quindi per due giorni, quindi ritorniamo al sabato e la domenica, il mercato dell'antiquariato vivrà da questo weekend al Pincio. Da qui poi lavoreremo per riportarlo anche agli antichi fasti dove anche gli espositori erano maggiori, dove anche i prodotti avevano anche una maggiore qualità. Ci stiamo lavorando insieme a dei professionisti, insieme a delle aziende che fanno di questo lavoro un po' in tutta Italia la loro mansione e quindi l'idea è quella ovviamente di far crescere questo prodotto che dà un qualcosa in più alla città. È sempre stato molto affine e può essere anche un'occasione, oltre che un'occasione commerciale, può essere anche un'ottima occasione turistica per la nostra città. È comunque un volano anche per attirare persone da fuori che magari nella giornata si spostano. Sì, l'ho detto prima, noi abbiamo dei progetti come il mercato cittadino, lo stesso mercato dell'antiquariato, che hanno una certa costanza, una certa progettazione nella città, quindi arriva una comunicazione esterna che c'è... Ci sono progetti come questi, molto belli nella città da visitare, cose che si possono acquistare, quindi sia capi d'abbigliamento, in questo caso invece merceologia antiquaria e quindi prodotti di altro tipo e questo è veramente molto interessante per le persone che si ritrovano a visitare una città, che tra la visita di un monumento e l'altro, oppure l'ingresso ad un museo, si trovano a camminare all'interno di un mercato che aglieta la passeggiata, che rende la città bella, viva, quindi per noi sono progetti importanti che cercheremo di qualificare al meglio.